Un caro saluto a tutti, voglio dare continuità al video di questa mattina in cui abbiamo parlato del rinnovo di Smile Benasser fino al 2026, ormai ad un passo, mancano solamente le firme, l'annuncio dovrebbe arrivare veramente a breve, nei prossimi giorni, quindi siamo in allerta per quanto riguarda il rinnovo di Benasser, ma in questo video parleremo anche di Rafa Leao, perché mi scrivete davvero in tanti sulla situazione di Leao, il giocatore ormai è di caratura internazionale, anche ieri Stefano Pioli lo ha paragonato nuovamente a Thierry Henry, in alcune sue movenze, soprattutto nella rapidità, nella velocità, assomiglia molto al grande campione francese che ha vestito per anni la maglia dell'Arsenal, è stato uno dei perni della nazionale francese. Ebbene Leao ha raggiunto quota 10 gol stagionali, 3 in Coppa, considerando sia la Champions sia la Coppa Italia, e 7 in campionato, la sua miglior stagione fino ad ora, il suo miglior rendimento. Ma Leao non vuole fermarsi e non deve fermarsi, Leao è un giocatore che viene davvero apprezzato tanto dai dirigenti del Milan, hanno sempre ritenuto Leao, sia Paolo Maldini, sia Frederic Massara, il vero gioiello di questa rosa. Ecco perché si sta procedendo verso il rinnovo del contratto del giocatore portoghese. Ma quali sono le cifre reali su cui si sta lavorando? Anche perché nei giorni scorsi sono emerse delle indiscrezioni che vedevano Leao e il suo procuratore Orge Mendes chiedere addirittura 6 milioni di euro al Milan. Da quello che ci risulta queste cifre sono un po' troppo sballate, sono troppo verso l'alto. Il Milan sta lavorando al rinnovo di Leao fino al 2026 per un ingaggio di circa 4 milioni più bonus. È un po' simile all'ingaggio che ha avuto Teo Hernandez. Addirittura su Teo Hernandez dal Milan ci fanno sapere che si arriva a 4 milioni più bonus, quindi nemmeno 4 e mezzo fissi, ma 4 milioni fissi più bonus. Una cifra tutto sommato reale e adeguata alle reali capacità e alle qualità di Teo Hernandez e crediamo che la stessa cosa possa avvenire per Leao. Leao quindi sta lavorando insieme al suo procuratore e insieme al Milan per rinnovare il contratto. Maldini e Massara vogliono blindarlo. Sappiamo che sono arrivate in estate diverse offerte, in particolar modo dall'estero. Qualcuno parla di club inglesi, altri di club tedeschi. Però l'interesse per Leao è noto da parte di tante società straniere, perché parliamo di un giocatore forte. Il Milan lo sa, non vuole venderlo, il Milan vuole trattenerlo, vuole blindarlo, vuole costruire insieme a Leao, Teo Hernandez, Ben Asser, Tonali, Mignan e tutti i giocatori più forti di questo Milan, vuole costruire il futuro della squadra, una squadra che dovrà essere competitiva anche in Europa. Ecco perché dopo l'annuncio del rinnovo di Ben Asser ci sarà successivamente anche quello di Rafa Leao. Serve un pochino più di tempo perché si sta ragionando su delle clausole, su dei bonus, ma evidentemente il grosso è già fatto. C'è molta fiducia, c'è ottimismo in sede in Vialdo Rossi per il rinnovo del gioiello portoghese di Rafa Leao. Sarà un Milan che verrà rinforzato nella prossima stagione. Chi guarda ad ora al progetto Milan vede una squadra non solo pronta per il presente, una squadra che ha ottenuto 55 punti nelle prime 25 giornate di campionato, può ancora accumularne tanti altri e può anche migliorare il rendimento della passata stagione dove il Milan aveva totalizzato 79 punti a fine stagione. Il Milan vuole superare sicuramente quota 80 quest'anno, vedremo se poi saranno utili per addirittura conquistare lo scudetto, ne serviranno di più. Ma la cosa interessante è che questo progetto sarà comunque un progetto migliorato in estate, in estate ci saranno gli investimenti, il Milan vuole fare investimenti in estate, vuole migliorare la rosa, vuole renderla ancora più forte, consolidare il gruppo e inserire nella rosa di Pioli dei giocatori funzionali. Botman, Renato Sanchez, sono tutti elementi che andranno a migliorare questa squadra, al di là dei mancati rinnovi possibili di Chessy e Romagnoli e anche in attacco verranno fatti degli aggiustamenti. Quindi la cosa importante da capire è che il Milan ha un progetto solido e su questo progetto andranno poi ad inserirsi altri investimenti ed altre figure che miglioreranno la squadra di Pioli. Il Milan sta anche lavorando fuori dal campo perché evidentemente deve migliorare anche l'aspetto dei ricavi oltre alla qualità tecnica della rosa, la qualità dei giocatori in squadra. E infatti, questo lo abbiamo scritto anche su Milan News. Il CEO del Milan, l'amministratore delegato Ivan Gazidis, recentemente è stato all'Expo in Dubai dove ha incontrato i vertici di Emirates, lo sponsor, il main sponsor del Milan e si è parlato di un rinnovo a cifre più alte rispetto ai 14 milioni, virgola 2 che guadagna annualmente il Milan da Emirates perché c'è molta fiducia da parte degli sponsor in questo momento sul progetto Milan. È da un paio d'anni che il Milan sta ritornando a livelli importanti e questo sta incidendo anche sui rinnovi delle sponsorizzazioni, sulle partnership, sull'arrivo di altri sponsor che possono non fare altro che continuare a migliorare il Milan perché mettono introiti nel club. BMW, ad esempio, è diventato lo sponsor per quanto riguarda le macchine, il car sponsor del club. Emirates è sempre stato uno sponsor fondamentale per la crescita del Milan anche nei momenti difficili, ma ora Gazidis sta lavorando al rinnovo con Emirates per cifre più alte nei prossimi anni. Stessa cosa anche con Puma, anche Puma che è uno degli sponsor principali del club che porta al Milan circa 13 milioni di euro all'anno, anche in questo caso si sta parlando di un prolungamento della partnership con cifre migliori anche perché il Milan non solo l'anno scorso ha partecipato nella stagione 21-22 alla Champions League ma punta a rimanere stabilmente in Champions League nei prossimi anni e questo a catena, a cascata, porta poi sicuramente nuovi sponsor, nuovi introiti che serviranno per rinforzare la rosa. Quindi è tutto collegato, è un meccanismo che sta funzionando, sta andando avanti e c'è grande fiducia per il futuro perché si possa crescere anche dal punto di vista dei ricavi, dal punto di vista economico, così il Milan può permettersi anche dei colpi più importanti sul calciomercato per rinforzare la rosa. Sono tutte notizie positive, tutte buone notizie per il club di Via Aldorossi perché sapete bene che quando la squadra funziona, quando la squadra gira, tutto il resto viene poi di conseguenza e migliora tutti gli aspetti, tutti i livelli di una società. Quindi il Milan e i tifosi si devono godere questo momento positivo, questo momento di fiducia e di ottimismo perché le cose continueranno a migliorare.